E ciao a tutti ragazzi sono Fakos Game Over e ben tornati con un nuovo video di Dragobow Legge ragazzi sono tornato raga da parecchio da un bel po' di tempo ragazzi dall'ultima volta i video che vi avevo portato vi avevo portato raga delle guide qua oggi ragazzi visto che voi raga mi avete dato molto supporto per i gazziami di cuore del traguardo di 800 iscritti noi ragazzi andiamo a pullare nel banner di Goku Super Saiyan 4 livello 4 limit break come potete vedere in alto ragazzi sono con 1342 Crono Crystals ma prima ragazzi che abbiamo fatto il miracolo ma ragazzi lasciate dei fututissimi like e seguete sempre nuovi ragazzi video su mio canale youtube andiamo ragazzi nelle muti z power ok abbiamo Goku Super Saiyan in 4 livello abbiamo Vegeta Magine Goku Super Saiyan 3, Kiku Gohan e Lefe c'è questo fisico mi ha anche Vegeta Super Saiyan credo l'ho trovato metà cooler e beh come lo vede ci sono tutti a ti proveremo a sculare non so vediamo intanto nelle bandami come solito e poi per qui troviamo ah abbiamo spedere le mille quindi raga sarà un bel paio di culette niente di che raga ma sarà una piccola delusione totale raga ma non potremo farci niente va bene ragazzi vado le ciasce andiamo subito a trovare Goku Super Saiyan 4 raga raga che la fortuna sia com'è spero di trovare il personaggio che mi serve c'è anche raga i downloading speriamo raga che ha da per meglio vediamo po' e cominciamo ragazzi spazio 5 space pod subito ragazzi la fortuna mi sta girato vediamo forse una priori animation ma chi può dillo va bene qualsiasi animazione per me non mi pota pure osso non si traspò ma mi pota non è un passo pro di vabbè però Goku riesce a sconfiggerlo ecco la spike kick balda vabbè non fa niente la cavole mostella me lo buco ma allora niente cheese dite cheese dite cheese vabbè vediamo però raga il corpo è socello a 6 stelle buono però vabbè ragazzi non mi porta poteva pure succedere se questa animazione non ha pari dato raga 6 stelle vada che il step è ottimo ci attagliamo a vedere quel terzo step forse raga ci sarà molto più meglio di prima magari forse raga un piccolo un piccolo banner di buona te be bene e vabbè raga la mando i Goku super saia blu go the freezer 5 space pod e ce lo vede di namek raga ma il gioco mi sta girato alla fortuna scusate raga quando vedo queste animazioni non riesco più a parlare ecco a spike kick regga mo bocca faccia lieva vabbè non mi porta raga tanto quell'animazione vabbè i text stream gg rozi secondo c'è lo 7 stelle non era quello che lo killing extreme che ce l'ho già grazie vabbè qualcosato di meglio qualche ultima spachica no questa era l'unica vabbè ragazzi vabbè ma c'è una 7 stelle come immaginasselo dato raga me la sotto nei commenti hashtag ciao buone raga quasi mi sono scodati di di adate iscrivervi al mio canale se non avete ancora fatto io lo lascio ovviamente i link e descrizioni del mio profilo su instagram e troviamo vados schifo limitate no guardate bella l'animazione super saia 2 guacca non ci credo no pensavo che era quasi con super saia 4 no vabbè raga no raga mi dissocio a poco duro se non troviamo goku super saia 4 i video finisce qui non mi porta raga goku è stato bello portavolo con voi vabbè ce lo vedete space pod non mi porta tra l'altro raga le 3 animazioni prima mi hanno fatto gasare vediamo da pugna la panza pure ah super saia buono quando una parabola di animation non mi porta perfetto sale pure lui 6 stelle come io ti penso agica no ho fatto errore appa quacca scusate raga ho fatto errore io 5 stelle va bene ragazzi io posso pure chiudere qui i video vi ringrazio lo stesso per aver guardato com'è questo video fino alla fine torniamo anche pure ragazzi la nostra schermata più ci pare con il nostro gocciata non mi porta ragazzi abbiamo lo stesso visto le animazioni dell'amadoi più a sud vi ringrazio lo stesso raga per avermi dato molto supporto e mi raccomando ragazzi andatevi a iscrivervi sotto nei commenti quale dei personaggi avete trovato o quale step avete fatto 1017 e 1018 fatemelo sapere nei commenti bene raga io vi ringrazio di cuore mi raccomando ragazzi sopportatevi codividete mi raccomando raga premete la campanella delle notifiche per non perdervi altri prossimi video qui ragazzi ci vedremo per un prossimo video su legend ciao 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 ciao